E' così, è così. Che bello. Non mi fermerà mai più nessuno, Alfonso. E ringrazio anche la moglie di Enzo che mi chiamò e me lo disse. E' stata una grande donna, la ringrazio. E' stata davvero una grande donna. E' stata una grande donna perché questo è amore. Lei lo amava come amava me, come io amavo, cioè ci amavamo tutte e tre. Probabilmente vi amavate tutti e tre con la stessa intensità. Ecco, tu hai detto una cosa, ricordando il vostro amore, ricordando quei cinque anni, con grande realismo tu dici lo so che lui mi tradiva, ma io lo amavo alla follia. Quindi quando veramente si ama alla follia si passa sopra tutto. Sì, sopra proprio a tutto. Soffri ma continui ad amarlo. Continui ad amare. Lo so che adesso tu dici io sto bene, vivo senza amore, ho chiuso bottega, si sta bene così. Sì, ma quanto ti mancano quelle emozioni? Mi mancano. Oggi per esempio il grande fratello mentre ci truccavamo ha messo delle canzoni d'amore tipo La cura di Battiato e altre canzoni. Io mi sono sentita un po', io la chiamo la camola. La camola è un buco nel cuore perché la camola è quella che fa i buchi nel cresciuto e io ho un po' la camola, ogni tanto c'è l'ossi. E come si fa a riempirli quelle camole? No, non oramai, a questa età cosa riempio? Prenderò un altro cane.